questa prima vittoria non vuole proprio arrivare come mai continuiamo a giochiare che non ci mettiamo concentrazione abbastanza poi poi fortuna degli avversari come sempre però poi ci dobbiamo sempre impegnare di più sempre questo motivo se voi siete riusciti a chiudere il secondo set magari la partita avrebbe avuto un risvolto diverso è stato forse dettato dalla agitazione a quella c'entra sempre poi con molti noi quello quello è sempre importante però andando avanti a sé cioè o si vince poi si perde quindi non si può dire come possa essere andato avanti il fondamentale del muro è andato bene siete riusciti a toccare molti palloni e quindi rendere rigiocabili e forse da lì che la sua deve ripartire per centrare la prima vittoria stagionale va bene di certo fare qualcosa di buono è sempre il punto di partenza poi dopo da lì bisogna migliorare sempre più quindi dai muri poi le schiacciate coperture tutto perfetto grazie a tutti